Portiamo oggi il grido d'aiuto ed allarme di 15 milioni di persone che per colpa di questa legge di instabili rischiano di perdere tantissimi servizi che le due regioni più virtuose d'Italia fino ad oggi sono state in grado di garantire. Perché quando Renzi parla di tagli, Lombardia e Veneto hanno già tagliato tutto il tagliabile in termini di costi della politica, di burocrazia, di dipendenti. Sono le due regioni italiane più virtuose per il rapporto fra costo del personale per ogni singolo cittadino. Quindi da tagliare è rimasto poco e nei miliardi chiesti alle regioni, entrando nel merito, siccome poi un conto è dirle cifre, un conto è parlare di quello che è, io ci tengo che Roberto Maroni e Luca Zaia possano usare la vostra gentilezza per far capire ai nostri cittadini, anche agli elettori di Renzi, che se non cambia questa legge di instabilità a rischio serio ci sono gli autobus per gli studenti, c'è la chiusura di diversi ospedali, c'è il riscaldamento nelle scuole, c'è la manutenzione delle strade, c'è la protezione in caso di alluvioni e di calamità naturali. Quando Renzi parla gioiosamente di tagli non sa che parla di case di riposo, di non autosufficienti, di disabili da reinserire nel mondo del lavoro, di scuole materne e di tanti altri servizi che sono a pesante rischio. L'obiettivo di oggi è di rendere in pratica nella vita quotidiana quello che questa legge di stabilità rischia di significare per gli abitanti di Lombardia e Veneto. Quindi io darei prima la parola a Roberto Maroni, poi a Luca Zaia e poi rispondiamo volentieri alle domande. Sì grazie, porteremo oggi alla commissione bilancio un po' di cifre perché al di là della demagogia che si fa, le regioni sono fonte di spreco, la realtà è ben diversa e i dati sono impietosi, ne cito solo pochissimi. La spesa delle regioni è stata ridotta negli ultimi cinque anni tra 2009 e 2012 del 38,5%, quella delle amministrazioni centrali del 12,2%. I tagli previsti ai ministeri nel DDL stabilità ammontano a 2,3 miliardi contro i 4 miliardi delle regioni. Se venisse applicato un risparmio del 3%, come è stato fatto per tutti, la riduzione di spesa sarebbe di quasi 5 miliardi. Quindi per i ministeri applicando lo stesso criterio che è stato applicato alle regioni e agli enti locali c'è ancora spazio di riduzione di oltre 2,3 miliardi. Il pareggio di bilancio, cosa buona e giusta, è stato introdotto dalla legge del 2012, entra in vigore nel 2016. Il governo ha chiesto per lo Stato lo spostamento al 2017 e per le regioni invece è anticipato al 2015. Quindi le regioni dovranno fare il pareggio di bilancio che vuol dire un'altra manovra, un'altra riduzione di quasi 3 miliardi di euro oltre i 4 miliardi che ci sono stati imposti dalla legge di stabilità. Noi non siamo contro la riduzione, non siamo contro i tagli, ma vogliamo che siano equi e così com'è previsto nella legge di stabilità non sono equi. Che cosa bisogna fare perché siano equi? Introdurre i costi standard. La Lombardia, tutto ciò che lo Stato spende in Lombardia, lo Stato, il Governo centrale, la Regione, le province e i comuni ha un valore pro capite di 3 mila e 600 euro e il Veneto di 3 mila e 700. Siamo le regioni ultra virtuose perché la media nazionale è di 4 mila e 300 euro. Con regioni all'interno delle quali pro capite tutto ciò che noi facciamo con un costo di 3 mila e 600 euro viene fatto a 7 mila, più di 7 mila euro. Per fare le stesse cose, anzi io penso ed è dimostrato dai fatti che noi le facciamo anche meglio, spendendo meno. E allora che cosa bisogna fare? Ridurre la spesa applicando i costi standard, cioè individuando nelle singole regioni, nelle regioni, le migliori pratiche. Chi spende meglio, chi spende bene, chi spende meglio in quel capitolo di spesa, quello è il modello che va esteso a tutte le regioni. Si risparmierebbero altro che 4 miliardi, molti di più, ma in modo equo premiando, quindi dando un incentivo alle regioni virtuose e punendo le regioni spendaccione perché ci sono. Fare di tutto un erbo un fascio, considerare tutte le regioni come centro di spreco è un'idiozia e determinerà come conseguenza quella che ha detto Matteo Salvini. Noi abbiamo ridotto all'osso la spesa. Dovendo applicare i livelli essenziali nella sanità, il taglio di Regione Lombardia, 930 milioni di euro, totalmente ingiustificato, ci costringerà a chiudere degli ospedali perché non possiamo non applicare i livelli essenziali, come è giusto che sia. Tutto questo lo ribadiremo alla Commissione Bilancio, nell'audizione delle 13, confidando che Renzi passi finalmente dalle parole ai fatti perché nell'incontro avuto con le regioni ha mostrato apertura sul criterio dei costi standard. Se venissero applicati i costi standard succederebbe, ci avrebbe una riduzione di spesa maggiore di quella prevista ma in modo eco. Se Renzi terrà fede a questo impegno, dubito che lo farà, allora noi siamo pronti a discutere e a ragionare, altrimenti sarà una dichiarazione di guerra. Grazie, buongiorno a tutti. Io penso che è bene chiarire che la sinistra governa il Paese dal novembre 2011 e bisogna essere senza vergogna nel presentare una legge di stabilità o instabilità, come giustamente la chiama il nostro segretario federale, e far credere ai cittadini che questa sia la soluzione per tutti i mali. Noi abbiamo già capito che al di là dei tweet, delle slides che sono state proiettate e della grande presentazione, siamo passati da un taglio di sprechi impaventato di 20 miliardi di euro che poi alla fine nel provvedimento bollinato è arrivato a 15 miliardi di euro. Ha un taglio di tasse che doveva essere di 18 miliardi che si è ridotto ad 11, ma soprattutto si sono dimenticati di dire che l'aumento della spesa è di 11 miliardi. Con questi tre dati si capisce che chi rappresenta questo governo sta prendendo in giro i cittadini. Ha ragione il collega Roberto Maroni quando cita la virtuosità. La vera legge di stabilità in un paese serio che ha coscienza di essere in un momento importante della vita del paese. Siamo nel semestre europeo a presidenza italiana, non se ne è accorto nessuno. Ecco, in un paese serio che presenta una legge di stabilità sarebbe stato sufficiente scrivere l'obbligo dell'applicazione dei costi standard da subito. Roberto Maroni quando parla dei costi standard ha ragione perché dice che noi comunque siamo disponibili ad applicare la virtuosità anche degli altri. Bene, l'applicazione pedisse qua dei costi standard, della virtuosità, della siringa che costa 4 centesimi e non 26 centesimi, del pasto in ospedale che costa 6 euro e mezzo e non 60-80 euro. Vi dico cifre reali. Ecco, questa applicazione vale per il bilancio dello Stato 30 miliardi di euro di risparmi. Voi capite che vale molto di più del taglio degli sprechi, vale molto di più del taglio delle tasse. E lo dice un governatore di una regione che ha 600 mila partite IVA, che ha un PIL di 170 miliardi di euro, e che purtroppo ancora oggi, assieme alla Lombardia che ovviamente fa da capofila per questo, versa ancora un residuo fiscale che è attivo. 21 miliardi ogni anno di tasse vengono sprecate nei millerivoli del bilancio dello Stato. Noi non siamo più disposti a questo. Se Renzi pensa che con le slide si risolvano i problemi, io dico che noi, i nostri imprenditori, i nostri cittadini, i lavoratori, hanno ben chiaro che questo taglio delle tasse è un taglio, ovviamente, che noi auspichiamo, ma auspicavamo un taglio molto più poderoso e importante delle tasse. La verità è che la legge di stabilità non dà alcuna garanzia per la stabilità futura. Io vivo in una regione dove quella pressione fiscale totale del 68,5% contro una media del 46% pesa molto nelle nostre imprese. Vivo in una regione nella quale, bene ricordarlo a Renzi e ai suoi amici, 140 imprenditori si sono suicidati nelle loro aziende e non nei villaggi turistici proprio perché non si riesce a chiudere i bilanci. Vivo in una regione dove, come è accaduto in questa legge di stabilità, si fissa la quota di lotta all'evasione fiscale. Noi siamo per la lotta contro l'evasione fiscale, ma diciamo anche che non può essere vessatoria questa lotta e andare a controllare tutti i piccoli artigiani e contestare delle cose assurde, sapendo che comunque chi fa i controlli al coltello dalla parte del manico e ti induce e ti obbliga a pagare comunque, anche se non hai commesso nessun reato. Noi diciamo che non siamo disposti ad accettare questa soluzione, siamo convinti del fatto che, mi permetto di dirlo, chi ci rappresenta anche come regione di Chiamparino, quantomeno dalla Lombardia, dal Veneto, ha avuto un'indicazione, che è quella dei costi standard, che è quella della virtuosità. Io spero che non si vada lì con il cappello in mano, perché abbiamo visto delle acrobazie uniche nelle 24 ore successive alla presentazione della legge di stabilità. Quella di cuore che ha fatto dire a tutti i miei colleghi, i nostri colleghi, non va bene. E poi quella di tessera, sì, ma si può ragionare, si può fare. Noi siamo qui a rappresentare invece i cittadini. Ve lo dice chi ha contestato anche provvedimenti di governi amici, perché spesso abbiamo ricorso, abbiamo fatto, ma è giusto oggi dire che con questa legge di stabilità non si va da nessuna parte. E lo dicono, mi permetto di dirlo anche per il collega Maroni, lo dicono due regioni che pagano il conto a tutta Italia. Grazie. Quindi mi sembra che sia ben chiaro che se oggi non ci saranno risultati soddisfacenti, Lombardia e Veneto diranno di no in tutte le maniere possibili e immaginabili, permessi dalla legge, dal buon senso e anche di più. Aggiungo una postilla che riguarda una regione che non è qua, però chiedo ai due governatori di farsene carico oggi, perché dal primo novembre stanno vergognosamente arrivando a casa dei terremotati e degli alluvionati emiliani e romagnoli le cartelle esattoriali di Equitalia. Cioè lo Stato italiano è uno Stato di buffoni che sta mandando delle cartelle esattoriali per riscuotere delle tasse non pagate da chi ha perso tutto per l'alluvione e il terremoto. E visto che non penso che ci sia qualcuno che rappresenti l'Emilia e la Romagna in questo momento, chiedo ai due governatori che abbiamo di farsi carico delle migliaia di cittadini e di imprenditori che da tre giorni sono terrorizzati fiscalmente dalla richiesta del pagamento di contributi che evidentemente non possono in alcun modo pagare. Quindi queste cartelle potrebbero essere fatte ingoiare a chi di competenza. Detto questo, se ci sono delle domande... La Corte dei Conti, come sapete, dall'anno scorso fa il giudizio di parifica, così si chiama, anche sulle singole regioni. Per quanto riguarda la mia regione, ha analizzato due bilanci e non c'è stata una sola eccezione. Perché? Perché io coltivo un ottimo rapporto con la Corte dei Conti. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa che consente alla Corte dei Conti di verificare online tutti i dati della regione, tutti i conti, tutte le singole spese. E questo ha portato all'approvazione del bilancio senza nessuna eccezione, senza nessuna considerazione negativa. Quindi anche da questo punto di vista noi siamo un modello da imitare. Però, ripeto, al di là delle spese che possono essere ridotte o degli sprechi, che ci sono, io non lo nego, ci sono. Però andiamo a vedere dove respingo l'affermazione come regioni uguale spreco. Perché non è così. E sfido Renzi a venire in regione Lombardia e in regione Veneto a dirci dove sono gli sprechi. Se mi dice dove noi sprechiamo, io taglio dove noi sprechiamo. Perché se noi abbiamo un costo pro capite dipendenti pubblici della regione Lombardia, costo pro capite per i Lombardi di 19 euro e ci sono regioni dove il costo pro capite è 220 euro per fare le stesse cose, mi pare che lì bisogna intervenire. Questo vuol dire costi standard. Prendiamo il modello Lombardo o il modello Veneto sul rapporto tra numero di dipendenti e abitanti e lo applichiamo ovunque. Prendiamo i costi della sanità del Veneto e li applichiamo ovunque. Questo è il modo per risparmiare. Non è nord contro sud, è regioni virtuose contro regioni sprecone. Questo è un principio di buonsenso e di equità. I tagli lineari ci costringerebbero a tagliare i servizi perché noi di sprechi non ne abbiamo.